Buonasera, benvenuti al nostro terzo appuntamento. Oggi 20 maggio, intervistiamo un altro dei testimoni della strage di Capaci, un poliziotto che quel giorno era risposta al dottor Falcone e che per fortuna è sopravvissuto all'attentato. Diamo il benvenuto ad Angelo Corbo. Grazie, ciao. Ciao Angelo. Angelo Corbo è entrato in polizia nel 1987 e nel 1990 è stato assegnato alla scorta del dottor Falcone, poi è diventato ispettore capo e oggi è in quiescenza. Intanto grazie Angelo di aver accettato il nostro invito per questo ricordo del dottor Falcone, della dottoressa Morvillo e dei tuoi colleghi. Sono giorni, sappiamo, molto particolari per te che sei sopravvissuto, che quel giorno sei rinato per la seconda volta. Volevo iniziare chiedendoti un tuo ricordo del dottor Falcone. Com'era il dottor Falcone nella vita? Non so se tu hai avuto modo di conoscerlo anche come uomo, oltre che come magistrato. Allora, innanzitutto Alessandra, ci siamo del tu perché ci conosciamo ormai da diversi anni e quindi mi sembra di essere un personaggio falso, se non si dassi direttamente del tu. Alessandra, innanzitutto ti ringrazio di questa possibilità. Tu sai benissimo come la penso, sai che io solitamente sono il restio a fornire testimonianze a cavallo della data del 20 maggio, perché per me, come ho sempre detto, rappresenta una pagina personale veramente brutta e che spero sempre che questa pagina, questa data venga cancellata dal calendario, ma so che è impossibile. E quindi sai benissimo che io proprio in questo periodo solitamente vado in letargo, io dico, come gli orsi, vado in letargo e poi risvegliarmi il 27, anche perché devo essere sincero, a me tutte queste celebrazioni fatte il 23 maggio mi sembrano tanta di falsità. Vengo subito e ti rispondo alla tua domanda. Com'era Falcone? Io ho avuto la possibilità di conoscere Falcone, prima di tutto come cittadino, perché io cresco, nasco a Palermo e cresco a Palermo e quindi per me leggo le gesta di un personaggio, di un magistrato che sta cercando di dare un volto nuovo alla città di Palermo. Poi ho la possibilità nel 90 di far parte della sua scorta e rimanerci poi fino al 23 maggio 1992, il dato della sua morte. Però voglio precisare che non possiamo dire che Angelo Colbo, così come tutta la scorta, avesse un rapporto amichevole con il dottor Falcone. Quindi molti risvolti chiaramente noi li vediamo, la parte lavorativa di una persona da tutelare. Quindi io ti posso raccontare come era Falcone con la scorta, con la sua scorta personale, con la sua scorta fissa tra l'altro. Ecco, ti posso raccontare benissimo che era una persona che chiedeva professionalità. Noi sappiamo che Giovanni Falcone era un professionista, il suo mestiere era professionale al massimo, lui ci si buttava anima e corpo, io dico, sul lavoro, perché lui ci credeva di quello che faceva. E così pretendeva dei suoi collaboratori. E anche noi, scorta, eravamo comunque i suoi collaboratori, perché noi avevamo il compito di difendere il Giovanni Falcone fino al massimo della nostra potenzialità. Devo dire che io ho scoperto poi un altro Giovanni Falcone. L'ho scoperto avendolo rapportato da persone a lui vicine. Io ho avuto la fortuna di conoscere in questo arco di 28 anni persone che veramente erano amiche di Falcone. Oggi non c'è più perché purtroppo è morta, ma una tua collega, avvocato, una dottoressa Tamburello, era sua intima amica. Ecco, è stata il mio avvocato nelle parti civili del processo. Ecco, grazie a lei esempio, ho avuto raccontato delle cose su Giovanni Falcone che io sentavo io stesso a crederci. Io vedevo Falcone sempre concentrato, molto puntiglioso, spesso anche con noi magari un po' sgarbato, perché non era tutto rose e fiori. Ma invece ho scoperto, grazie ai racconti di queste persone, un Falcone completamente diverso, un burlone, è uno a cui piaceva tantissimo scherzare, che veramente era il classico burlo della compagnia. Ecco, quindi purtroppo e probabilmente io, io, così come tutti quanti l'ascolto, ho visto quella versione di Falcone magari più pesante, più dura. Senti, tu quando parli della strage di Capaci, alla quale hai anche dedicato un libro, questo, vediamo se riusciamo a inquadrarlo, strage di Capaci, paradossi, omissioni e altre dimenticanze, fai anche un racconto di alcune appunto cose strane che sono successe quel giorno, che tu hai avuto modo di vedere o di intuire. Ci puoi dire a che cosa ti riferisco? Sì, sicuramente io, in quel piccolo libro, ho cercato di riportare innanzitutto, chiaramente alla mia persona, cosa significa la figura di un uomo, di un ragazzo che decide di fare un mestiere particolare, accetta di far parte della scorta di Giovanni Falcone, è quello che porta il servizio con Giovanni Falcone e quello che purtroppo avviene dopo la strage di Capaci. Io nel libro faccio riferimenti ad alcuni particolari che magari sembrano per il lettore poco attento, magari insignificanti, ma ti assicuro che per quanto riguarda me, che comunque sono stato un investigatore di polizia fino a qualche anno fa, ecco, sono tante piccole rondelline di un meccanismo che mi fanno un po' pensare. Io non posso non ricordarmi esempio che in quei giorni, anche fra di noi, scorta fissa, si parlava di entità statali estranea alla nostra scorta, ma che ci seguivano, noi ritenevamo per protezione, magari invece poi ci accorgeremo che non sono di protezione. Non ti ho sentito. Pensavate per una maggiore protezione vostra? Esattamente, noi pensavamo per una maggiore protezione, una protezione alla protezione, per aumentare, anche perché dimentichiamo forse che in quel periodo già si sapeva che sarebbe successo un fatto eclatante a Palermo. Già c'erano voci nelle ambienti che erano in preparazione un qualcosa di forte, un attentato. Lo dicono i pentiti, non lo dice Angelo Corbo, chiaramente. Lo dicono i pentiti, nel corso dei processi l'hanno più volte ribadito che già e quindi circolava nell'ambiente anche dello Stato questa sensazione. Quindi nulla ci faceva non pensare che magari un aumento della protezione. Parliamoci chiaro, in quegli anni le persone dello Stato a Palermo, che potevano essere colpite, avendo però un senso forte, erano veramente, si contavano sulla dita della mano e Falcone sicuramente era all'apice di questa scala. Quindi ecco perché per noi non era anormale il fatto che ci fossero stati altri organi statali a protezione. Poi non possiamo anche ricordare delle omissioni che non vengono mai trattate. La borsa della 24 ore di Giovanni Falcone, tutti quanti, tu fai parte del monumento Agenda Rosse e giustamente parliamo tutti quanti di questa benedetta Agenda Rosse di Borsellino. Ma perché nessuno mai parla dei flop dischi spariti nell'ufficio di Falcone o della valigetta 24 ore che accompagnava sempre Giovanni Falcone? Io, e te lo conformerà magari anche se sai l'occasione di sentirlo Giuseppe Costanza, parliamo spesso di ricordarci perfettamente che Falcone scende dall'aereo con una 24 ore in mano. Noi non sappiamo cosa c'è in quelle 24 ore. Io questo lo ribellisco sempre. Potremmo che non c'era niente, potremmo che c'era un cambio, potremmo che c'erano dei fogli. Ma nessuno parla mai di questa 24 ore. La 24 ore tu dici è sparita. È sparita. Non ne parla mai nessuno. Nessuno ci racconta che cosa c'era. Nessuno facendo di questa 24 ore. Era ovviamente stata messa nell'auto e poi non è stata più ritrovata, ho capito bene? E non è stata più ritrovata. O comunque non risulta nessuno, non ne parla mai perché nessuno parla mai di questa 24 ore. Oppure parliamo delle, questo non lo dico io, lo dice il diretto interessato, di fotografie che sono state scattate subito dopo l'attentato da un professionista, un fotografo professionista, che sembrerebbe, a parole di questo fotografo, che sono sequestrate, vengono sequestrate dalle forze di polizia, ma non entrano mai nel fascicolo processuale. Ecco, tutte queste omissioni ci fanno un pochettino capire come tutto un po' strano, come l'attentato un po' strano. Il fotografo è Antonio Vassallo, che abitava vicino al luogo della strage, quindi a Isola delle Femmine, e quel giorno, appena sentita l'esplosione, si recò sul posto e iniziò a scattare foto fin quando qualcuno gli chiese di consegnare il rullino perché lo avrebbe fatto avere all'autorità giudiziaria e poi invece si è scoperto che quel rullino non è mai arrivato ai magistrati. Sì, tra l'altro con Antonio Vassallo mi lega anche un altro fatto. Io quel giorno, lui ha rischiato di morire per scattare queste foto, perché ricordo perfettamente l'episodio di aver visto una persona che si avvicinava con in mano un qualcosa che io in quel momento non riuscivo a identificare ed ero lì pronto a sparare con la mia metraglietta di ordinanza e poi, per volontà di qualcuno superiore a noi, vengo fermato e quindi diciamo che forse probabilmente Antonio Vassallo oggi potrà raccontarvelo grazie al fatto che io non ho sparato quel giorno in difesa. L'attentato, tu per quanto ferito sei riuscito a scendere dalla macchina e ti sei messo a protezione dell'auto, queste erano le regole, giusto? Quindi chiunque si avvicinava poteva essere un pericolo. Lavoro. Esatto, è un pericolo. Sì, allora, noi scendiamo, non solo io, anche Gasperi Cervello, che eri caposcorta di quel giorno, perché questo mi piace di dirlo, perché guarda, anche oggi ho guardato un pochettino il programma di questo anniversario e purtroppo è facile, ogni anno sbagliano sempre una cosa particolare, mettano purtroppo un deceduto come caposcorta. No, no, in quel giorno il caposcorta, diciamo da Chiareletta, è Gasperi Cervello. Ecco, Gasperi Cervello insieme a me, insieme a Paolo Capuzza, e scendiamo dalla macchina feriti e irrazionalmente, ti dico Alessandra, irrazionalmente non ci comportiamo come esseri umani, perché un essere umano quando scende da quella macchina ferito, sanguinante, estordito, vedendo la catastrofe che c'era intorno, la prima cosa che avrebbe fatto razionalmente è quello di prendere un minimo di sicurezza, ovvero ripararsi, trovarsi un riparo, non dico fuggire, ma comunque ripararsi, perché loro sono lì, noi sappiamo che loro sono lì. Invece noi non siamo razionali, in quel momento siamo veramente, non lo so neanche io come posso esprimervi, però facciamo una cosa semplice, continuiamo a fare il nostro servizio, quindi continuiamo, sanguinante, feriti, e ci mettiamo intorno alla macchina di Giovanni Falcone, in attesa di morire nuovamente. Cerchiamo di salvare il salvabile, come si dice, cerchiamo di salvare la personalità a cui eravamo in affidamento. salvamento. Ogni persona che si avvicina per noi è un punto, è un punto X che potrebbe essere un mafioso che viene a dare il corpo di grazia, perché non possiamo non capire che la mafia, gli operatori, gli esecutori, non i mandanti, avevano il compito non solo di schiacciare il pulsante, ma anche di controllare e verificare che il loro obiettivo fosse stato raggiunto. Perché altrimenti, capisci benissimo, mettere in moto un meccanismo di un attentato come quello di Capaci, con tutto quel materiale, con tutta quella preparazione bellica, con tutta quella preparazione scientifica, e poi non ammazzare Giovanni Falcone, capisci bene che sarebbe stato un insuccesso completo, anche perché non ci sarebbe stata una seconda possibilità. E quindi, ecco, ancora di più per noi, sicuramente loro si sono avvicinati. Magari, come dico, e queste purtroppo sono mie supposizioni, chiaramente, magari non si sono avvicinati con la coppola o con la lupare in mano o con le mitre in mano, magari sono presentati con un camice bianco o con una divisa particolare e hanno costatato. Senti, Angelo, mi senti ancora? Eccolo, ci siamo, ci siamo rivisti. Un attimo. Ti avevo perso. Senti, appunto, tu adesso ci hai raccontato comunque il senso del, quello che ti ha fatto fare comunque il senso del dovere. Ci puoi raccontare un po' com'era far parte della scorta del giudice Falcone? Che cosa significava intanto entrarci e poi vivere, ogni giorno, a fianco di una persona che ti riputava un morto che cammina? Allora, innanzitutto, non nel senso del servizio, probabilmente l'incoscienza, per quanto riguarda quello di continuare a fare noi, mettici ancora come scudo umano. Cosa ti fa fare questa scelta di vita? Perché è una scelta di vita. Alessandra, io ho scelto di entrare in polizia. Ho scelto di entrare in polizia perché credevo che ognuno di noi deve dare un piccolo contributo per cercare di portare, di avere quella dignità che la criminalità ti mangia. Quindi per me è stata una scelta di vita. Io non voglio dire oggi è facile, oggi ti potrei raccontare che io sono stato un volontario di far parte della scorta di Falcone, come tanti altri miei colleghi vi diranno in questi giorni o in questi anni, che tutti quanti vogliono far parte della scorta di Giovanni Falcone, perché tutti quanti avrebbero il disegno di far parte della scorta di Giovanni Falcone. No, io non ho fatto io questa scelta di far parte della scorta di Giovanni Falcone perché io nel 90 avevo pochi anni di servizio, avevo due anni e mezzo di servizio senza aver fatto mai un corso specifico di scorta e quindi Angelo Corbo non si sentiva in grado di poter fare un servizio come quello che Giovanni Falcone, che era considerata da me e da molti ragazzi come me all'epoca un'icona, un condottiero, una persona a cui affidarci per poter riprenderci la nostra dignità. Quindi io non ho scelto di far parte della scorta di Giovanni Falcone, io te lo dico sempre, l'ho detto anche in altre interviste, l'ho scritto anche nel libro, sono stato preso tra virgolette con l'inganno. Io sono stato chiamato dalla squadra mobili di Palermo per far parte della squadra mobili, non per far parte della scorta di Giovanni Falcone, ma come servizio c'era anche la scorta e come piccolo obolo da pagare era quello di dover rimanere per un mese, un mese e qualche giorno a fare la scorta di Giovanni Falcone in attesa di gente, colleghi, che uscissero dal corso di Abba Santa, dove fanno il corso di scorta, e poter poi veramente dare un servizio utile e forse più preparato a Giovanni Falcone. Solamente che questo è fatto un inganno, proprio perché non c'erano i cosiddetti colleghi volontari. Perché, vediamoci chiaro, fare il servizio con Giovanni Falcone non piaceva quasi a nessuno. Erano pochi i veri personaggi che volevano lavorare con Giovanni Falcone. E sicuramente, ma anche nell'ambito, molti miei colleghi rifiutavano questo servizio. Tant'è che appunto nel 90, io dico che l'allora capo della squadra mobili rasca il barile delle domandine per far parte della squadra mobili di Palermo, rasca proprio il barile e prende persone come me, non preparate. E questo però ci dovrebbe far intuire tante cose, tante sciocchiezze che sono state raccontate in questi 28 anni. Io mi arrabbio spesso, mi innervosisco, e anche per questo il libro, quando sento dire appunto che tutti sono amici di Giovanni Falcone, se tutti volevano fare parte della squadra di Giovanni Falcone. No, non è vero. E veramente, anche dei 22 uomini che facevano parte dal 90 in poi, forse erano veramente 5-6, ma già stiamo parlando in eccesso, di persone che veramente erano contenti di fare quel servizio. Perché lavorare con Giovanni Falcone, oltre, beh, la parte umana non c'era perché c'era un rapporto poco umano tra di noi, tra noi e la personalità, ma non c'era neanche che diceva, beh, tu fai il servizio, tale servizio guadagni anche di più. No, perché il mio stipendio era uguale a quello del mio collega che stava davanti alla porta della caserma ad alzare la sbarra. Anzi, erano più i dispiacei di servizio che ti dipendevi, la rinuncia alla tua vita, e che quindi effettivamente veniva, era diventato complesso lavorare. Quindi, ecco, io voglio proprio sfatare questa cosa di essere volontario. Io non sono mai stato volontario. Io sono stato catapultato in questa realtà. Ho avuto il piacere, all'epoca, di farne parte, perché comunque per un ragazzo di 23 anni era un motivo d'orgoglio, comunque era sempre un servizio particolare. Per me seguire Giovanni Falcone comunque rappresentava una bella speranza. Io ho conosciuto Giovanni Falcone. Io posso sempre dire di aver conosciuto Giovanni Falcone quella splendida persona che avrebbe ridato dignità alla mia città. però dire che uno lo faceva volentieri ce ne vuole. Senti, il rapporto con i tuoi colleghi, com'era dentro la squadra? Allora, il rapporto era un buon rapporto. Ecco, anche qui dobbiamo distinguere due periodi, Alessandra. Noi ne abbiamo già parlato. È un primo periodo quando ancora faceva parte della squadra mobile. Quindi 22 uomini, sempre gli stessi, divisi in due turni, ma che comunque ci scambiavamo. Ci scambiavamo i saluti, gli aguri. Quando c'era il cambio delle due squadre, il lagurio era adesso sono cavoli vostri, noi ce l'abbiamo fatta a salvarci, adesso tocca a voi. Quindi c'era un rapporto buono, anche perché quando tu vivi più tempo con questi ragazzi, con questi colleghi, che non con la tua famiglia, è chiaro che si instaura un rapporto. Poi è chiaro che in una squadra e in un gruppo, come sai benissimo, c'è qualcuno con cui leghi di più e con qualcuno con cui leghi di meno. E questo è normale. Poi nel dicembre 91, quando veniamo trasferiti all'ufficio scorta e tutela della questura di Palermo, le cose un po' cambiano. Perché non siamo trasferiti tutti a 22, ma veniamo trasferiti solamente in 12, per coprire un turno completo per 12 uomini. Quindi capisci bene che non c'è più possibilità di avere un riposo, una festività. Non ti puoi neanche ammalare, perché chiaramente se ti ammali, la scorta potenzialmente viene diminuita. Quello che praticamente poi, volendo, è anche successo il 23 maggio, perché se noi guardiamo un pochettino quel giorno, ci accorgiamo, chiaramente voi non lo sapete, ma noi sì, noi che facciamo parte dell'ascolto lo sappiamo, e allora ci accorgiamo che dei sei uomini, comandati di servizio quel pomeriggio, di turno effettivo pomeridiano, eravamo solamente io e Gaspre Cervello. Antonio Montinaro e Vito Schifani erano della scorta fissa di Giovanni Falcone, ma a quel giorno erano del turno della mattina, ma per problemi personale hanno accettato di fare il turno pomeridiano. Ma se poi guardiamo anche Rocco Di Cillo e Paolo Capuzza, allora lì viene fuori che loro non facevano parte della scorta di Giovanni Falcone, loro erano in sostituzione di altri colleghi. Rocco Di Cillo era scorta fissa di padre Quintacuda, un uomo comunque conosciuto nell'ambiente. Paolo Capuzza era uomo di scorta di Giordano, il giudice Giordano, quello del Maxi Processi, che quel giorno vengono chiamati a sostituire degli elementi della scorta fissa di Giovanni Falcone per sostituirli. Quindi poi il rapporto fra noi dodici, tra i dodici fissi diventa da un lato più forte, perché ci uniamo noi dodici, perché siamo noi dodici contro tutti gli altri. Perché anche questo mi vuole dirlo, ma in molti miei colleghi delle scorte non eravamo visti noi bene, anche perché per il nostro comportamento, noi ci consideravamo la scorta migliore di Palermo, scortando Giovanni Falcone ci consideravamo la super scorta, e quindi molti nostri colleghi dell'ufficio non ci vedevano di buon occhio. Tant'è che molti rifiutavano proprio di far parte della scorta di Giovanni Falcone, perché anche questo oggi io ve lo dico, magari molti non ve lo diranno, ma io ve lo dico. Quindi nel corso degli anni, in quei due anni e mezzo di mio servizio, ho visto un cambiamento epocale, un cambiamento veramente epocale. Ascolta, una domanda su una cosa che tu una volta hai dichiarato, questa scorta di Giovanni Falcone nel tempo è cambiata come dotazioni, diciamo, no? A un certo punto il dottor Falcone è andato a Roma nel 91 e tornava occasionalmente in Sicilia, quindi poi si andava ripristinato il servizio di scorta, però nel corso del tempo le dotazioni, parlavi tu di un elicottero, come è cambiato il servizio di scorta? Che difficoltà in più avete avuto? Che timori in più avete avuto? Nel corso di quegli anni è cambiata totalmente i mezzi tecnici per fare la scorta. Ma tu dicevi, sì, da quando Falcone si trasferisce a Roma, ma poi lui torna a Palermo, ogni fine settimana lui è a Palermo, quindi diciamo che noi veniamo messi in stand-by durante la settimana, ci occupiamo di altri servizi, ma siamo sempre, la scorta esiste sempre di Giovanni Falcone, perché poi comunque da giovedì a lunedì siamo impegnati con lui. Nel corso degli anni io ho fatto proprio, ho visto come la scorta, da quando io ho iniziato, anzi ancora prima, da quando io fino agli anni, io ho entro in polizia nell'87, i primi anni come reparto mobile di Palermo avevamo anche il servizio sotto casa, nella garitta, sotto casa di Falcone, e io spesso facevo servizio in quella garitta e quindi mi accorgevo anche nelle 88-89 che tipo di servizio veniva fatto. Ebbene, io mi ricordo espressamente che all'inizio, in quegli anni, ma soprattutto anche quando io ho iniziato, quando noi ci si muoveva Falcone, si muoveva non solamente con tre macchine, due di scorta e la sua, ma c'erano due volanti che precedevano la scorta, c'era una macchina nostra, con i nostri componenti dello scorte, della scorta Falcone, che con una macchina civetta, che andava, precedeva il corteo, spesso si usavano anche le macchine personali, per non essere riconosciute. Che cos'è la macchina civetta? Perché magari non tutti sanno. Oh, è una macchina, che è praticamente una macchina normale, io mi ricordo all'epoca si camminava con la Punto, o con una Panda, voglio dire, o con una R4, macchine normalissime, molto normalissime nel periodo, per non dare l'occhio, ma comunque si faceva il tragitto prima della scorta stessa, prima del corteo, per controllare che tutto andava bene. Ma mi ricordo anche, quindi, anche la presenza sopra le teste della scorta, e anche della mia all'epoca, di un elicottero. Allora, capisco che magari per molti può sembrare un eccessivo uso delle risorse pubbliche, ma mi assicuro che, ripensando anche all'assaggio di Capaci, un elicottero, quella sera, quel pomeriggio, sarebbe stata la panacea per tutti i mali, perché sicuramente un elicottero avrebbe notato un movimento strano sulla collinetta. e già solo il fatto che avrebbe chiamato la centrale operativa e mandato a inviare, la quale avrebbe inviato una pattuglia a controllare, probabilmente avrebbe cambiato le sorti della storia. Quindi, ecco, ma non sono solo l'elicottero, le macchine. Scusami, nel corso del tempo questi mezzi tecnici sono venuti meno? Sono venuti meno! Io mi ricordo che ai tempi di esempio, già quando passiamo dalla squadra mobile all'afficio scorte, ci vengono tolte alcune armi. Io mi ricordo che alla squadra mobile avevamo in macchina i fucili a pompa, oltre all'M12, che era la mitagliette, erano i nostri pistoli. Passiamo all'afficio scorte e tutela. Queste fucili a pompa non vengono insieme a noi. Le avioline... Come, scusami? Ti sento ogni tanto o ti perdo? Non è un altro paradosso anche questo? E questo è un altro paradosso, ma tu lo sai, il mio libro c'è il sottotitolo Paradosso e omissioni e altri dimenticati. Anche questo è un paradosso. Ma ti dirò, tu sai benissimo che le macchine delle macchine di polizia, in genere, delle forze dell'ordine, sono molto, molto a volte intercettate nel radio, no? Nel radio che abbiamo in macchina spesso sono intercettate dai giornalisti, dai delinquenti. E quindi noi che cosa usavamo? Nel periodo della squadra mobile usavamo delle rioline con poca frequenza, il K-Wood, mi rivolgo anche alla marca, che servivano a comunicarci fra noi, fra le nostre due macchine, per la macchina d'apertura, del corteo e la nostra o viceversa di chiusura. Ecco, anche questa sembra una cosa assurda, cretina, ma vi assicuro che non dover usare il canale ufficiale della radio montata in macchina e quindi facilmente intercettabile è un motivo di sicurezza in più. Ebbene, squadra mobile possediamo queste radioline, passiamo all'ufficio scorte, spariscono, rimangono alla squadra mobile. Sì, è vero, potete dire, ma potrevate anche comprarveli voi, ma capisci bene che spesso magari ci sono altre problematiche magari. Ti ricordi il periodo in cui tu passasti all'ufficio scorte? dicembre 91. Dicembre 91 ci fu proprio questo transito di 12 uomini dall'ufficio della squadra mobile all'ufficio scorte e tutela, chiaramente un transito di ufficio non a domanda, invece 10 ragazzi, colleghi, riuscirono a rimanere alla squadra mobile e anche questo è uno di quei punti che magari se uno ci pensa fa un po' male. Allora, io Angelo intanto ti ringrazio di essere stato con noi oggi perché so che anche se non è il 23 maggio però questo è un periodo per te molto particolare, quindi grazie di cuore anche da parte del nostro movimento di Salvatore Borsellino. Ringrazio a voi. Ricordo questo libro, per chi lo vuole leggere ci sono tante cose interessanti, tanti spunti di riflessione che Angelo fa e quindi grazie ancora per aver ricordato il dottor Falcone e i tuoi colleghi e speriamo di rivederci presto per portare la tua testimonianza comunque in un periodo diverso da questo perché come diciamo sempre noi queste persone che non sono eroi ma sono servitori dello Stato che hanno fatto il loro lavoro vanno ricordati tutti i giorni altrimenti diventa solo un'ipocrisia e una commemorazione retorica giusto? Sai benissimo come la penso sai benissimo che l'ho scritto a Chiarelettere e il 23 maggio è solamente l'ipocrisia collettiva di una nazione ma così come il 19 luglio così come il 1 agosto così come il 3 settembre si dimentica tutto gli altri 365 364 giorni dell'anno e Calasostano in quel giorno cerchiamo di rirulici come dico io la coscienza esatto loro sono vivi tutti i giorni e non solo nel giorno delle stragi grazie mille di cuore Angelo a presto grazie a te grazie a te Alessandra ciao ciao